Mi chiamo Gianluca Dettori, sono il presidente di D-Pixel. D-Pixel è una società basata a Milano che si occupa di venture capital nel campo tecnologico. Noi investiamo in startup ad alto potenziale e aiutiamo gli imprenditori a raggiungere loro obiettivi di crescita. Abbiamo investito in Sardex per una serie di fattori. Noi fondamentalmente il nostro mestiere è cercare le aziende che secondo il nostro parere hanno il più alto potenziale di sviluppo possibile e sicuramente Sardex ha questa potenzialità per come la vediamo noi. Evidentemente solo il futuro ci potrà dire fino a dove può arrivare un progetto, un'idea di questo tipo e questo sicuramente è stato un primo aspetto. Secondariamente però l'aspetto forse più importante per noi è stato conoscere il team dei fondatori che sono stati estremamente convincenti. Loro erano già partiti, erano già in una fase in cui avevano ancora pochi ricavi però erano già sul mercato, erano molto, come noi diciamo adesso viene una parola inglese, committed, erano molto impegnati su questo progetto, ci credevano e quindi diciamo il team è stato molto veramente molto convincente. Abbiamo fatto un'analisi, si chiama due diligence nel nostro mestiere e più abbiamo guardato dentro questo progetto più ci siamo convinti che effettivamente è un progetto che ha un potenziale enorme, anche alla luce del fatto che la crisi economica in questo momento ha creato tutta una situazione di contesto intorno tale per cui gli imprenditori non hanno più liquidità, non hanno più i denari che servono per fare sviluppare il proprio business e quindi Sardex offre oggettivamente una soluzione potente a questo problema che oggi tocca tutte le imprese. Da Sardex innanzitutto noi ci aspettiamo di costruire una buona azienda, una grande azienda e di poter fare il nostro mestiere che è quello del venture capital, quindi investire, far crescere l'azienda e rivendere la nostra quota generando un guadagno per i nostri investitori che ci hanno dato fiducia, ci hanno dato i capitali da investire appunto in Sardex. Da Sardex però ci aspettiamo di più perché è un'azienda che ha proprio questa natura, ha anche un lato, vorrei dire adesso una parola forse, però un lato etico, lascia sul territorio un impatto estremamente positivo, è una di quelle cose che potrebbero cambiare il mondo, ha una potenzialità di scalabilità globale, funziona in Sardegna ma può funzionare praticamente in qualunque parte del mondo e offre soprattutto delle soluzioni che oggi tutti sentono. Sardex ha una visione di un mondo diverso, è un'economia molto, come dire, moderna, un'economia che è in linea con i tempi, con la sharing economy, con le reti. Insomma quindi forse in Sardex oltre la motivazione e l'aspettativa di costruire una buona azienda ci aspettiamo anche di poter impattare sul mondo.